buongiorno amici di mercato totale con me c'è piero convertino che io non so mai se chiamare coordinatore direttore comunque direi il tutto direi caro piero buongiorno buongiorno giancarlo ben ben trovato giorno a tutti coloro che ti seguono allora appena giovedì c'è stato come chiamiamolo convention convention giusto ti piace direi e noi abbiamo fatto un po decantare la cosa abbiamo aspettato e ora a bocce ferme o a mente fredda come ti piace di più ragioniamo perché avete celebrato giovedì i dieci anni direi tu ne hai un po meno però direi che hai vissuto lo splendore la pubertà di questa di questa di questa creatura e quindi direi che dopo che ne hanno parlato sul nostro sito i massimi livelli da minato a erbinato a ferrari e ameriliano ora ne parli tu e e io vorrei che tu eh assumessi un po il ruolo del ragioniere del giovane e mi raccontassi bene ehm la polpa il succo le verità di questa intanto ti chiedo rei come sta secondo te rei sta bene e diciamo che come direbbe un nostro caro amico gode di moderata giatezza diciamo che ieri è stata una giornata molto importante per noi anche ricca di emozioni fondamentalmente perché al di là del fatto di aver trovato un momento per insomma celebrare questi dieci anni trascorsi insieme e abbiamo voluto anche dare un titolo a questa giornata dandogli dieci anni di valore e dieci anni di fiducia molto sorpreso come ti dicevo e anche molto emozionato dal fatto che la presenza in sala era numerosa erano presenti 54 ragioni sociali su 80 ragioni sociali attive nella compagine direi e ragioni sociali che con fatica si spostano dalle proprie attività in quanto la maggior parte dei i titolari dei gestori di queste aziende sono persone operative sul campo al cento per cento diciamo che la giornata si è sviluppata in con alcuni macro argomenti abbiamo iniziato facendo un brevissimo escursus dei dieci anni fino alle trascorsi e quindi abbiamo un po raccontato dalla dalla nascita direi fino all'anno appena chiuso quindi all'anno concluso e ragionando anche in termini di cosa facciamo da oggi in poi quindi dopo questo brevissimo escursus dei dieci anni e abbiamo evidenziato e la platea c'è già già onorato di questa cosa con loro presenza anche con i documenti di essere stati sempre più vicini alle esigenze del dei nostri dei nostri associati che vanno non solo diciamo da un punto di vista commerciale puro quindi commerciale facilitatori nelle relazioni con i fornitori la logistica la finanza ma siamo entrati in un concetto di erogatori di servizi centralizzati che permettono alla compagine di fare massa critica ed economia di scala in buona sostanza quindi diciamo che buona sostanza non è stato un punto d'arrivo ma guardiamo una nuova mappa e immaginiamo un nuovo viaggio da lì tanta aziende non managerializzate che trovano in te e nel tuo gruppo di lavoro in manager che consentono di avere un ampio respiro insomma impari di capire assolutamente sì diciamo che comunque la nostra compagine e come tu dicevi sono piccole aziende e loro valore di esercizio noi abbiamo comunque ragioni sociali che esprimono dal milione e mezzo di fatturato fino a massimo di 10 milioni che sono di tutto rispetto tra l'altro considerato che molte di loro quel quel fatturato lo fanno su raggio su territori piuttosto complicati e quindi non è scontato come dire anzi di tutto rispetto il valore il lavoro che fanno tra queste non nascondo che non tutte sono ovviamente integrate al nostro mondo però diciamo che più di un terzo quindi più o meno 30 ragioni sociali sono fortemente integrate integrati a quelle che sono le nostre logiche i nostri processi un'altra trentina sono mediamente integrate poi ne abbiamo ancora una ventina ma come in tutte le grandi famiglie che che se ne dica c'è sempre insomma non potremmo avere tutta la compagine perfetta che hanno un po' di difficoltà a integrarsi probabilmente perché la loro attività è diversa rispetto al modello che noi vorremmo dare probabilmente non hanno bisogno di servizi che noi vorremmo trasferire e magari sono alla ricerca di cose che noi non possiamo dare quindi non siamo perfetti per tutti quanti però in questa imperfezione mi pare che ci siano dei segnali molto positivi di crescita nel fatturato ma anche nella compagine allora no la compagine in realtà è abbastanza statica e io da quando sono arrivato nel 2018 sono arrivato a ottobre del 2018 e rei conoscendo comunque rei da insomma dalla genesi quindi proprio anche dalla parte embrioniale se vogliamo nel mio processo negli anni ho cercato di fare quali quali e qualità più che quantità cercando di tra virgolette fare in modo che alcune aziende che non si sentono integrate e che comunque non vedono in noi diciamo non dico la risoluzione dei loro problemi ma probabilmente un modello di supporto strategico li abbiamo come dire più che li abbiamo si sono allontanati in maniera naturale questo processo che francamente vorrei continuare a portare avanti specialmente su quelle 20 aziende di cui ti parlavo prima dove il processo di integrazione non è eccellente lo sforzo che voglio fare e vorremmo fare un po anche con tutta la squadra di è quello di fare in modo che quelle che sono mediamente integrate si possano integrare ancora di più qui non abbiamo in mente di allargare la compagine ma siamo sempre disponibili al confronto per nuove collaborazioni e magari ci piacerebbe andare a mettere qualche bandierina in qualche regione dove oggi non siamo presenti oggi non ci siamo tante un bel numero assolutamente molti vi invidiano per questo numero ma ti chiedo e dalle alpi alle piramidi cioè l'italia come la coprite allora diciamo che abbiamo quattro regioni dove non ci siamo per niente quindi molise toscana trentino e umbria non abbiamo nessuna ragione presente nessuna ragione sociale presente dalla nostra compagine e chiaramente a un po a quella che è stata la fase iniziale quindi all'avvio direi dove c'era una fortissima concentrazione al sud sia in termini di ragioni sociali che anche in termini di poi di fatturati sviluppati oggi diciamo che questo questa mappa un po si è non dico unificata ma la diciamo che la presenza al nord comincia ad essere significativa per nord e noi intendiamo dalle marche a salire e inglobando la sardegna per noi il sud e dal dal lazio in giù sicilia nord allargato diciamo nord allargato va bene questo è un po insomma la la conformazione della della campagna geografica sulle bancarine direi senti ancora due domande per te la prima riguarda i vostri parenti i vostri parenti i vostri amici importanti cioè famiglie ferrari e marigliano in ordine alfabetico ecco quanto è significativa la presenza quanto vi aiuta quanto è importante oppure se per caso vi da anche degli svantaggi sapere che ci sono alle spalle personaggi di questa caratura allora diciamo che la loro presenza per noi è fondamentale ed è fondamentale per tutte quelle aziende che in rei vedono una un'opportunità di sviluppo e di strutturarsi in maniera un po fuori dall'azienda padronale non a caso durante la giornata di ieri noi abbiamo concluso una giornata diciamo il nostro incontro con una tavola rotonda dove praticamente proprio gli azionisti ferrari marigliano e i loro consiglieri dei legati all'interno direi hanno potuto in un certo qual modo interloquire con la platea su temi molto molto importanti come ad esempio facendo anche lì un po un escorso su degli ultimi dieci anni di mercato quale le nuove come dire il nuovo mercato i nuovi modelli di insomma in termini di prodotti in termini di soluzioni abbiamo anche guardato o secondo anche diciamo visto la loro esperienza degli analogie con altri modelli aggregativi quante volte direi si parla e re o un consorzio rei non è un consorzio e non è un gruppo d'acquisto e poi abbiamo anche discusso poi di della finanza, dell'accesso al credito, insomma quello che sta succedendo, facendo poi anche un escurso sull'approccio del web e dell'intelligenza artificiale che oggi ha un impatto anche nel nostro settore. Questa cosa da parte della platea è stata molto molto apprezzata, anche perché difficilmente hanno la possibilità di confrontarsi con operatore di elevatura tutti i giorni, quindi assolutamente contenti se vogliamo e quindi non vedono un ostacolo, ma anzi un'opportunità per poter, come dire... Amici importanti, amici importanti, siamo amici importanti. Ti piace così? Ti piace. Senti Piero, l'ultima domanda che ti fa? Più che importante, soprattutto bravi. Bravi e importanti, certo, è giusto. Allora, senti, l'ultima domanda per concludere questa nostra chiacchiavata è questa, un po' già l'hai annunciata tu prima, qual è il futuro, cioè nei secondi dieci anni? Che cosa succederà? Che cosa deve succedere? Ma allora, diciamo che le esigenze del mercato cambiano in continuazione, e anche con una velocità tale che difficilmente il nostro associato tipo può, come dire, anticipare o essere in grado in brevi termini ad affrontare questi cambiamenti. Ed ecco perché è importante il supporto dei due azionisti di riferimento, considerate le loro esperienze e le loro relazioni. Quindi il nostro obiettivo è quello sempre di dare la possibilità ai nostri associati di sentirsi supportati da queste strutture, cercando anche di, come dire, sviluppare nuovi servizi che, come dicevamo prima, rimane il nostro obiettivo primario fondamentale, che è quello di farli poi anche fare economia di scala. C'è tutta una serie di cose che probabilmente, difficilmente all'interno delle loro strutture possono fare, ma in un contesto di gruppo, insomma, possono affrontare in maniera anche strutturata con, diciamo, dei costi decisamente più abbordabili, perché poi il valore dell'investimento per alcune aziende rispetto ad altre, insomma, cambia notevolmente in funzione alla propria capacità di investire. Va bene. Caro Piero, ti vorrei fare una domanda che conclude questa notte che anche l'altra, è questa. Adesso, che avete dieci anni, mettete una stella anche voi nel vostro marchio? No, no, il nostro marchio... Nessuna stella? Nessuna stella. Il nostro marchio è bellissimo com'è, rappresenta la bandiera italiana, è rete elettrica Italia, quindi porta il tricolore, diciamo che è bello così com'è, non abbiamo nessuna intenzione di cambiarlo. Bellissimo. Grazie Piero Covertino, simpatico e brillante e intelligente come sempre. Grazie. Adesso non aspettiamo dieci anni per risentirci, insomma, ci saranno cose... Il nostro prossimo appuntamento è tra il 22 e il 29 giugno, facciamo il nostro viaggio incentive con i nostri associati, i loro clienti, un po' di fornitori. Probabilmente ci sentiremo dopo le vacanze e ti racconterò un po' come è andata, va bene? Grazie Piero Covertino, buona giornata a tutti. Ciao a tutti, grazie Giancarlo.